È rivolta a Cifro, dove una folla di allevatori di capre e pecore si è riunita di fronte al Palazzo Presidenziale per richiedere la piena implementazione delle normative DOP nella produzione di allumi. Il formaggio tipico locale è stato a lungo protagonista di numerose dispute tra turchi e greci che condividono l'isola. L'allumi ha ricevuto l'ok dalla Commissione Europea per la certificazione di denominazione di origine protetta lo scorso aprile, ma sette mesi dopo la legislazione appropriata non è ancora stata applicata. Per manifestare la loro rabbia, gli allevatori hanno versato litri e litri di latte e dato fuoco a Ballerifieno. Proprio ieri, il ministro dell'Agricoltura, Costa Scadis, aveva denunciato la situazione critica degli allevatori ciprioti. Il latte, infatti, al momento è venduto a prezzi più bassi rispetto ai costi di produzione. A detta dei manifestanti, il costo del mangime, cresciuto del 115%, si somma ad un aumento dell'elettricità e dei fertilizzanti. Grazie.